musica Jody VG4, oggi grande festa aziendale Italwalks ora ci siamo, sta per cominciare questa grande festa aziendale, natalizia quindi musica di Natale, ma non solo musica di Natale musica internazionale, ci sarà veramente da divertirsi e adesso andiamo piano piano, si sale, si sale, si sale fino a... lo scopriremo dinner time, qua all'Eurotaverna e adesso è il momento tranquillo, sottofondo di musica di Natale però si riprende a ballare, già abbiamo fatto una pausa prima che non avete visto, tutti in pista tra poco riprendiamo e poi facciamo vedere anche un po' l'allestimento Luci dai musica Grazie 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 All over the world Bello, pubblico eccezionale Scatenati, voglio divertirsi Anche la presidentessa in persona Olga ha ballato Diciamo che è un bel traguardo Grazie a voi Speriamo al prossimo anno Assolutamente Grazie, a presto Grazie a tutti